Vasco Rossi! Giori facciamogli un applauso, Vasco Rossi è con noi! Vieni, vieni Vasco! Eccolo qua, Vasco Rossi! Ciao Vasco! E' veramente un personaggio incredibile, intanto è un ragazzo d'assalto. Un ragazzo che si è fatto da solo, ne ha passate di tutti i colori quando era ragazzino. Io ho letto tutta la tua biografia, quando stavi a casa tua, facevi tanti sacrifici, sei proprio partito ai tempi delle montagne, la mamma che gli faceva da mangiare, i tortellini, tutte quelle storie. E' una storia veramente interessante. Ci sono questi ragazzi che hanno tanto cuore, tanto sentimento, anche se sembrano dei gasati, hai sentito delle ragazze, hanno detto mi piace perché è gasato. Un altro ha detto tozzo o tocco, non so che cosa hanno detto. Tocco o tocco. E questi ragazzi qua invece che hanno sofferto, hanno tanto cuore, sono quelli che rimangono, che sono qui per...